Nessuna sorpresa al primo turno delle presidenziali in Brasile, dove due partiti tradizionali mantengono le ridini del consenso. La presidente uscente Dilma Rousseff del Partito dei Lavoratori e il conservatore Aicio Neves daranno la caccia ai voti ambientalisti di Marina Silva in vista del ballottaggio del 26 ottobre. La Rousseff ha raggiunto il 41,5% dei voti contro il 33,6% di Neves, che però è il vero vincitore del primo turno. Il suo risultato non farà stare tranquilla alla Rousseff nelle prossime tre settimane. Esce di scena Marina Silva con il 21,3%, ancora meno degli ultimi sondaggi che pure la davano in discesa. In questo momento io non sono la rivale sconfitta, ma una persona che crede, una persona che è ancora in piedi perché non abbiamo venduto i nostri principi per vincere le elezioni. Per Marina Silva, per qualche settimana favorita nel duello contro la Rousseff, ora non resta altro che giocare il ruolo del lago della bilancia.